Musica Bella a tutti ragazzi bentornati dai Lion Pro Power Io sono VV e oggi siamo in un mini vlog Perché in un mini vlog? Perché comunque oggi inizia la serie A Sì, avete capito bene, la serie A Per chi segue il calcio Io lo seguo tantissimo, anche Curi lo segue tanto Per chi segue il calcio, la serie A è una cosa molto importante Cioè, fa davvero emozionare Adesso io vi volevo mostrare Intanto volevo invitarvi a Eccoci qua, ci sono la luce, il momento di blackout Invitarvi a scrivere sotto nei commenti che squadra ti fate Io vi mostrerò Non so se si vede bene Allora, dalla maglia Dal poster Dal portafoglio Vecchio Portafoglio Dalla bandiera qua dietro Un po' si capisce Non tifo Atalanta Dai colori nozzurri Ma tifo Inter Ben sì, tifo Inter Oggi si parte con una gara davvero molto bella Come Verona-Roma Seguirsi sarà Lazio-Bologna Devo dire che Sono molto emozionato Perché comunque L'aspetto davvero tanto L'inizio della nuova serie A Perché L'Inter comunque l'anno scorso L'ha fatto davvero male Quest'anno invece dai Speriamo che vada un po' meglio Anche se dei precedenti Non sta facendo tantissimi gol Si è rinforzato un sacco Con Jovetic E Con Dombia Murillo Miranda Montoya Un sacco di giocatori che Possono far bene Se usati nel migliore dei modi Comunque Mi raccomando Scrivete nei commenti Che squadra ti fate Ci tengo Insomma Ci tengo Perché comunque Così vedo Che squadra va per la maggiore Qui In Romagna La squadra che va per la maggiore La Juventus Purtroppo Se ne sono Dei interisti Viennisti Quelli che tifano Roma Però Quella che va per la maggiore La Juve Presumo anche Negli altri Nelle altre regioni Comunque Per il video di oggi È tutto Spero che Comunque Un argomento interessante Spero che vi sia piaciuto Io mi sto muovendo Non so il perché Vabbè Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Se non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi Mettete mi piace Commentate Condividete ogni dove E al prossimo video Ciao